Bene, Lois, io sto andando al bazar. Cioè, vuoi dire che vai al supermercato? Già, nel bazar. Visto che vai al supermercato, compri dei cereali, del burro e anche un po' di pane? Vedrò quello che c'è. Ecco, Lois, qui ci sono sei cobra, un rotolo di seta e un corno di montone. Peter, ma cosa hai comprato? Senti, mi aiuti a scaricare i 20 sacchi di datteri che ho in mattina. E per quale motivo hai comprato 20 sacchi di datteri? Perché la scimmia in gilet che li vendeva è stata molto, molto persuasiva.